Ah, finalmente, dopo ben due mesi di attesa, il momento è giunto. La spiegazione dell'iceberg di Steven Universe. Lo so che è passata un'eternità da quando l'ho annunciato per la prima volta, ma grazie ad alcuni commenti lasciati da alcuni di voi mi avete dato lo spunto per quello che, beh, è diventato il video che è adesso. Di norma avrei preso un iceberg qualsiasi da Google immagini e l'avrei semplicemente analizzato, ma stavolta mi avete fatto pensare a qualcosa del tipo, ma scusa, ma noi in Italia ce l'abbiamo qualcuno che conosce tantissime cose di Steven Universe. Perché non invitarlo? Ed ecco che, come avete letto dal titolo e come ho già annunciato da moltissimo tempo, sono lieto di annunciarvi che questa non solo è la prima collaborazione del canale, ma che oggi è qui con me il grandissimo Enrico, che conoscerete sicuramente come 151eggi. Ciao Saturn, è un piacere essere qui dal momento in cui io non sarei mai stato in grado di fare un iceberg di Steven Universe perché sono troppo boomer per capire queste cose. Però voglio essere d'aiuto e quindi eccomi qui. Tralasciando che ovviamente troverete tutti i link al suo canale praticamente ovunque, dovete sapere che se non fosse stato per lui, questo video, beh, sarebbe durato come minimo 20 se non 30 minuti di meno. E questo perché mi ha fornito talmente tante informazioni che abbiamo avuto una bellissima idea. Già, perché con lui siamo riusciti a stilare il primo iceberg italiano di Steven Universe, usando come base quello dell'utente GemPony7 pubblicato sulla pagina fandom, ma pieno di aggiunte e alcuni punti che sono relativi solo alla nostra lingua. Direi che oggi ho raggiunto il picco di impegno verso un video, fidatevi. Cosa aspettiamo dunque? Vi auguro una buona visione e procediamo finalmente con la spiegazione dell'iceberg di Steven Universe. Rose Quartz è diamante rosa. Questo punto lo conoscete bene tutti in quanto è stato confermato nella serie e nella puntata Una Rosa Senza Spine ed ha un ruolo fondamentale nella trama, ma sì, Rose Quartz è realmente diamante rosa. Potrebbe inoltre risalire ad alcune teorie fatte dai fan molto prima che ciò fosse ovvio. Ad esempio possiamo trovarne una risalente al 25 giugno 2015 dove l'utente White Opalite o Opalite descriveva perché, secondo lui lei, Rose Quartz sarebbe potuta essere diamante rosa. Se foste interessati infine ci ho anche dedicato un video intero a diamante rosa e lo troverete nella tendina qui in alta destra. Garnet è una fusione. Pure questo punto ormai è chiaro a tutti, ma diciamo che nella prima stagione poteva non essere così ovvio. Certo, i modi per capirlo c'erano, ad esempio il fatto che avesse due gemme sulle mani, a differenza delle altre che ne avevano solo una, e tre occhi, però al tempo non si sapeva molto sulle fusioni o quanto potevano durare. Sta di fatto che nell'ultima puntata della prima stagione, capitolo finale, veniamo a conoscenza che Garnet non è altro che la fusione tra Rubino e Zaffiro. Cipollo Cipollo è un personaggio ricorrente nella serie ed è un abitante di Beach City. È un ragazzo dalla pelle chiara con un piccolo ciuffo di capelli biondi e una faccia paffuta. Indossa un maglione bianco, una maglia bluastra legata al collo e pantaloni a zampa di elefante rosso pallido. Il suo tratto più riconoscibile è la sua testa a cipolla, sebbene la parte superiore sia più sottile della parte inferiore, non somigliando così a una cipolla normale. Ed inoltre non ha orecchie visibili. Diciamo che è un personaggio un po' strano, visto che non parla e non è visibilmente invecchiato durante il salto di due anni nel film, anche se potrebbe essere solo un suo aspetto strano e inspiegabile. Screenshot falsi. Se anche voi seguivate la serie mentre uscivano le stagioni, sapevate che era famosa per avere tempi di attesa tra gli episodi davvero lunghi. Era proprio in queste attese che, come per ogni franchise famoso, su internet uscivano decine e decine di immagini false che magari mostravano la presunta morte di qualche personaggio oppure qualche nuova gemma. Alcune però erano davvero fatte male, quindi non so se qualcuno ci sia davvero cascato. L'episodio pilota. Come per ogni iceberg che ho analizzato finora, questo punto si riferisce all'episodio pilota di 7 minuti della serie, chiamato anche The Time Thing, che è stato rilasciato il 21 maggio 2013 attraverso il padre di Rebecca Sugar e sul sito web di Cartoon Network. Nell'episodio a Steven viene data una clessidra magica che permette di viaggiare nel tempo da ametista, e fa quello che farebbe qualsiasi bambino della sua età. La usa per controbattere ciò che gli viene detto. Ma giocare con la magia crea problemi nella sua cittadina balneare, e Steven dovrà quindi farsi avanti e salvare la situazione. Anche stavolta possiamo vedere che lo stile di animazione e il design dei personaggi erano diversi dalle loro versioni definitive, basta guardare Garnet e Perla che sembrano davvero due personaggi diversi. Steven è basato sul fratello di Rebecca. Come è stato rivelato sul Washington Post e anche nel libro End of Anir, il personaggio di Steven è stato ispirato dal fratello della creatrice dello show. Il suo nome tra l'altro è Steven Sugar, quindi diciamo che anche questo poteva essere un indizio. Riccardo Suarez. Riccardo Suarez è il doppiatore italiano di Steven. Lo ha iniziato a doppiare quando era un bambino, e come per la sua controparte americana, Zach Callison, non è mai stato sostituito. Possiamo notare infatti come durante le stagioni la sua voce diventi pian piano più profonda, questo perché semplicemente era lui che stava crescendo e la sua voce stava maturando. Fu scelto perché per doppiare Steven avevano bisogno di un bambino, pensate che una delle prime idee era chiamare Alex Polidori, che già doppiava fin in Adventure Time, e quindi l'edizione del doppiaggio decise di ingaggiare niente meno che il figlio di Ilaria Latini, doppiatrice famosa per ruoli come Titi dei Looney Tunes, ma anche come Asuka di Evangelion. Essendo lui molto giovane al tempo, era sempre molto a contatto con i fan della serie, ma anche con i fan di altri show che doppia, ad esempio Solar Opposites, Henry Danger o il remake di Hit. Allora, a un certo punto questa cosa è diventata un meme tra le persone che seguivano Steven Universe, ma... ma... c'è stato un cambio di direzione del doppiaggio di Steven Universe, il doppiaggio italiano. Prima c'era il doppiatore di Yosemite Sam, poi a un certo punto se n'è dovuto andare perché hanno spostato tutto il doppiaggio di Steven Universe da Milano a Roma, e a Roma la nuova direttrice del doppiaggio italiano di Steven Universe è diventata Monica Bertolotti. Però è diventato un meme perché Monica Bertolotti è la doppiatrice di Diamante Bianco, e di Alessandrite, e di Acquamarina, e ha doppiato anche Topazio, e... e Vidalia... e Quarzo Fumet... a un certo punto è diventato un... tutti sono la voce di... Monica Bertolotti! Monica Bertolotti ti vogliamo tanto bene, hai una bellissima voce, ma effettivamente dava un po' fastidio che metà dei personaggi avessero la stessa identica voce, quindi siamo più che felici che abbia ceduto molte di questi personaggi ad altri doppiatori con Steven Universe Future. Ed io ricevo chiamate mentre sto registrando. Vediamo chi è. Peridot è asessuale Pochi giorni dopo la premiere dell'episodio di Steven Universe Future in Dreams, la storyboard artist Maya Peterson ha rivelato che Peridot è asessuale e aromantica. Nonostante esprime interesse per le relazioni romantiche tra i personaggi di Camp Pining Hearts, quest'ultimo è puramente antropologico. La prova più evidente della sessualità di Peridot è il suo disinteresse per la fusione. Questo, certamente, può anche essere un po' complicato da analizzare perché la fusione in Steven Universe non è davvero una metafora semplice. Il baule di rosa è aperto. Questo punto si riferisce al baule situato dentro la criniera di leone, che, se durante la serie principale era sempre stato chiuso, durante il film lo possiamo vedere aperto. Non si sa con precisione cosa contenesse, anche se alcuni ipotizzano che ci sia stata la giacca che Steven indossa nella serie Future, ma diciamo che come teoria sarebbe piuttosto insensata. Insomma, è un po' come la valeggetta di Pulp Fiction, in entrambi i casi non sappiamo con certezza cosa ci possa essere stato dentro. I ragazzi fichi, cool kids, assomigliano alle Crystal Gems. Esistono delle teorie che dicono che i tre ragazzi fichi, Buck, Jenny e Pannacida, rappresenterebbero le Crystal Gems, e in effetti, se confrontati con quest'ultime, non sembrano poi così sbagliate. Pannacida sarebbe perla, Buck come Garnet ingossa sempre gli occhiali, mentre Jenny assomiglia un po' ad Ametista. Stivonni è la fusione tra Steven e Connie. Il fatto che questo personaggio sia non binario o intersessuale è stato confermato più volte da Cartoon Network tramite post e video, come ad esempio quello dedicato ai social media caricato su YouTube. Era già comunque una teoria in passato supportata dal fatto che usasse Deidem come pronomi traducibili da noi in loro, e che in la giungla lunare gli o le cresca la barba. Volleyball era la perla di diamante rosa. Perla rosa, o Volleyball, come viene chiamata nell'episodio a lei dedicato in Future, è una gemma del pianeta natale che era la perla originale di diamante rosa, prima di essere presa da lei ed essere posta sotto la proprietà di diamante bianco, che usò i suoi poteri per controllarla a distanza rendendola priva di colore. È denominata infatti perla bianca al di fuori della serie. Mi ricordo ancora che era una teoria popolare al tempo, soprattutto aiutata dal fatto che, a differenza delle altre perle, questa aveva una doppiatrice diversa, il che implicava che avrebbe avuto un ruolo importante. The Tale of Steven The Tale of Steven è la canzone di apertura di Steven Universe il film. Viene eseguita da diamante bianco, blu e giallo che cantano le loro lodi di Steven. Esiste inoltre un libro con lo stesso nome che racconta la storia di Steven e che mostra la percezione della storia dalla prospettiva di Rose Quartz e dei diamanti. Gli scoloriti fanno riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Esiste un'immagine in cui mostra che i membri degli scoloriti, ossia un gruppo di gemme non allineate che presentano fisico, comportamento o abilità anormali e sono state considerate difettose e appunto scolorite dai rigorosi standard del pianeta natale, hanno delle somiglianze con alcuni personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche se alcune sembrano un po' forzate, dato che senza didascalie, beh, è un po' difficile capire perché sono state accostate. Livello 2 canonico Questo punto si riferisce al livello di canonicità dei giochi e fumetti. Tecnicamente sono canonici, ma se lo show dovesse contraddire qualcosa citata in queste due cose, dovremmo considerare canonico quanto detto nel prodotto animato. Nicki Minaj Onika Tanya Maraj, meglio conosciuta con il nome d'arte Nicki Minaj, è una rapper, cantante, cantautrice e attrice statunitense che ha doppiato su Gilite, la fusione tra Metista e Garnet, che appare dall'episodio Steven Allenatore e in poi. Inesattezze sulle dimensioni Questo punto si riferisce semplicemente a degli errori di animazione durante le puntate, dove vediamo alcuni personaggi variare di altezza senza una apparente giustificazione. Lapis ha lo stress post-traumatico Lapis Lazuli, o Lapis in breve, è un membro delle Crystal Gems, che ha fatto il suo debutto in Lapis Lazuli Parte 1. Questo punto si riferisce alla sua paura per il pianeta natale e per cosa le avevano fatto durante la guerra. Venne infatti imprigionata in uno specchio per migliaia di anni, in quanto fu scambiata per una Crystal Gem. Aggiungiamo poi che è stata costretta a fondersi con Jasper e a mantenere la fusione per prevenire ulteriori danni da parte di quest'ultima. Questo la portò ad abitare presso il Fienile con Peridot e successivamente a tentare di fuggire sulla Luna con quest'ultimo. Le persone affette dai sintomi da stress post-traumatico manifestano difficoltà al controllo delle emozioni, irritabilità, rabbia improvvisa o confusione emotiva, depressione e ansia, insonnia, ma anche la determinazione a evitare qualunque atto che li costringa a ricordare l'evento traumatico. Si può dunque teorizzare che tutti questi eventi l'abbiano indotta un po' ad avere il PTSD. Il grappolo è cosciente. Il grappolo è un enorme gemma, beh, grappolo, sepolta all'interno del nucleo della Terra, che è stata menzionata per la prima volta in capitolo finale e vista per la prima volta in Al centro della Terra. È composto da milioni di frammenti di gemme e nella sua forma emersa sarebbe più grande della Terra, visto che aiuta Steven a mettere se stesso in una bolla sempre in Al centro della Terra e rimane dormiente nel mantello terrestre fino a quando non viene distrutto dalle navi di diamante giallo e diamante blu in le Crystal Gem. A partire da Homeworld Bound, diamante giallo giura di ripristinare quante più gemme frantumate che può all'interno del grappolo. La carriera segreta di Perla da Rapper. Questo punto si riferisce ad un video caricato su YouTube dall'utente M. Catwood nel 2016, diventato virale dove appunto è possibile vedere Perla rappare. Questa lore è stata poi ampliata dallo stesso utente, creando altri video in cui i personaggi dello show vengono a conoscenza della sua carriera segreta con diverse reazioni. In uno di questi video poi possiamo anche vedere la vera doppietrice di Perla fare un cameo, dove rappa il testo della canzone. Le gemme sono delle intelligenze artificiali. Questo punto è stato davvero confermato in un'intervista con la CBR, un sito web dedicato a notizie e discussioni relative ai fumetti. Rebecca Sugar ha infatti rivelato che tutte le gemme sono segretamente robot a energia solare. Tuttavia questo segreto, potenzialmente scherzoso, non era poi così nascosto, visto che la natura robotica delle gemme è stata ovvia per molto tempo. Anche se questo potrebbe sembrare assurdo, in tutta la serie ci sono molti accenni al fatto che le gemme siano una sorta di robot, sebbene alcune si comportino in modi più robotici di altre. Rubino russo ha i baffi. Questo punto si basa su un'immagine che ritrarrebbe che in Russia, per evitare di mostrare due personaggi omosessuali, Rubino abbia dei baffi per sottolineare il fatto che sia maschio. Nonostante questa immagine sia stata poi smentita, nel doppiaggio russo Rubino usa effettivamente dei pronomi maschili, il che comunque mostra che la Russia abbia davvero censurato la sua relazione con Zaffiro. La cancellazione di Steven Universe Questo punto si riferisce al fatto che Steven Universe tecnicamente non è mai stato finito come lo intendeva Rebecca, perché semplicemente è stato cancellato. La quinta stagione era infatti progettata per avere ben 52 episodi, esattamente come la prima stagione, ma quando venne annunciato che ci sarebbe stato il 23esimo episodio, Reunited, dove viene mostrato il matrimonio tra Rubino e Zaffiro, i genitori iniziarono a criticare la serie e imposero che venisse censurata perché non volevano che i propri figli crescessero con gli ideali gay e simili. Questo portò quindi a un taglio degli ultimi 20 episodi. 20. Alcuni di questi finirono all'interno di Steven Universe Future e quindi subirono una leggera modifica, ma sappiate che l'ultima stagione è stata incredibilmente ridotta. Un po' si nota questa cosa, soprattutto perché dopo questo episodio tutta la storia inizia ad accelerare molto nella narrazione. Ad esempio l'episodio 24, Legs from Here to Homeward, si torna a casa in italiano, è stato un po' un disastro, ma questo perché si capisce che quegli eventi sarebbero dovuti durare almeno 5 o 6 episodi, anziché essere compattati in un'unica puntata. Steven Universe è stato quindi cancellato per omofobia. Questo perché se le persone non guardavano le puntate, Black Crew non aveva i soldi per portare il pane a casa. Di conseguenza hanno cercato quantomeno di concludere la storia in fretta, anziché decidere di continuare sapendo che sarebbe stata boicottata dai genitori. Il linguaggio delle gemme. Il linguaggio delle gemme appare per iscritto in tutta la serie come sfondo e come punto minore della trama in Un'amica ritrovata. È il loro sistema di scrittura nativo e tutto ciò che riguarda la grammatica, l'ortografia o il lessico della lingua non è mai stato rivelato. Probabilmente non è uno script alternativo o un codice sostitutivo per l'inglese, poiché ha più di 26 caratteri. Alcuni di essi tra l'altro assomigliano al cinese tradizionale o semplificato. Il creatore delle gemme. Le gemme sono una specie extraterrestre di esseri magici, approssimativamente umanoidi, che svolgono un ruolo chiave nella serie. Nonostante sappiamo qualcosa del loro passato, non veniamo mai a conoscenza di chi o cosa le abbia effettivamente create. Sicuramente potrebbero essere stati diamanti, ma pure della loro origine si sa poco o nulla. Nomi delle gemme dimenticati. Questo ha un che di comico. Dovete sapere che quando è stato doppiato Steven Universe Future, anche se tutte le puntate non sono ancora state mandate in onda, è arrivato un messaggio al canale YouTube Stevens Bubble, che è uno dei personaggi che è stato più importante per la community italiana di Steven Universe, ovviamente assieme ad Enrico e a molti altri, perché, sentite bene, la produzione italiana si era dimenticata i nomi delle gemme. Quindi i nomi come Merletto Pazzo o Biggs hanno subito un cambio di nome nel secondo episodio di Future, perché non si ricordavano i nomi che avevano dato nella serie principale. Le teorie corrette di Ronaldo. Sappiamo che Ronaldo era solito creare teorie che nella maggior parte dei casi erano assurde, ma ci sono state volte che invece ci ha preso. Alcuni esempi sono stati. Il grande ordine del diamante, in quanto capisce che i diamanti sono rocce poliformiche vive, i diamanti possono cambiare forma, sapevamo già da Metista che le gemme potevano cambiare forma, ma che scopo dovrebbero farle i diamanti se sono già di loro le gemme più forti dell'universo? I diamanti stavano progettando di svuotare la Terra? Come abbiamo visto nel piano di diamante rosa conservato nella base lunare, la Terra sarebbe stata scavata con molti buchi nella superficie del pianeta. Lo zoo umano di proprietà di diamante rosa. Ronaldo credeva infatti che le rocce poliformiche senzienti stessero arrivando sulla Terra per raccogliere esseri umani per uno zoo umano. E naturalmente diamante blu arriva sulla Terra più tardi e rapisce Greg proprio per quello scopo. Allora, molte persone avranno notato di sicuro quella bellissima animazione di Change Your Mind, che è stata realizzata da James Baxter. Chi è James Baxter? James Baxter è il genio che si trova dietro a diversi film di animazione che tutti quanti amiamo, tra cui il Gobo di Notre Dame o Spirit Cavallo Selvaggio. Ha lavorato con i più grandi animatori di sempre e anzi è considerato uno dei più grandi animatori e ha una figlia, una figlia che era particolarmente appassionata di Steven Universe. Anche lui era particolarmente appassionato di Steven Universe, tant'è vero che per il compleanno della figlia a un certo punto ha chiesto a Rebecca Sugar se potesse farle un disegno. Beh, Rebecca Sugar il disegno l'ha fatto, ma non l'ha spedito via mail o via posta. Si è presentata al compleanno della bambina sorpresona per consegnarle il disegno di Steven Universe. E non solo la bambina si è emozionata in modo incredibile, ma anche il padre, James Baxter, si è commosso così tanto da dire, ma guarda, è stato un gesto bellissimo, faccio qualsiasi cosa per te. E Rebecca Sugar ha pensato che sarebbe stato carino chiedere di fare una breve scena, che è stata anche la prima scena di Change ormai ad essere completata. Tant'è vero che tutta la sequenza di Diamante Bianco è stata costruita sulla base di quella sequenza di James Baxter per come l'aveva animata lui. Un grandissimo animatore per una grandissima scena, ovviamente tutta animata a mano, su carta, perché questo non è molto chiaro ad alcune persone. Censura LGBT negli altri paesi Molti episodi di Steven Universe sono stati censurati sulle emittenti straniere di Cartoon Network. Queste modifiche si verificano principalmente a causa delle linee guida sui contenuti televisivi, che spesso differiscono dagli Stati Uniti, e includono la rimozione di scene o linee che potrebbero essere non adatte per i telespettatori più giovani. Le differenze culturali sono anche un altro motivo comune per cui gli episodi potrebbero essere censurati. In Kenya, ad esempio, è stato vietato a causa dei suoi temi LGBT nel 2017, mentre non va più in onda in Medio Oriente, escluso Israele, e in Nord Africa, per motivi inspiegabili. Tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto sempre ai temi LGBT. Come citavo prima, poi, in Russia vengono usati anche pronomi maschili, per censurare possibili relazioni omosessuali. La corruzione di Steven, 2017 Questo punto si riferisce a varie teorie fatte nel 2017, quando erano state rilasciate la sigla ed un paio di teaser della serie Future. Alcuni teorizzarono, infatti, che il mostro rosa che si vede per qualche secondo fosse una versione corrotta di Steven, ma in molti non ci credettero perché non la consideravano una storia da serie finale. Al giorno d'oggi sappiamo che quel mostro era stato creato dallo stress di Steven, che gli fece perdere temporaneamente il controllo dei suoi poteri, il che rende praticamente impossibile la teoria della sua corruzione. Steven, dopo non essere sopravvissuto Steven, after not surviving, è stata una popolare teoria che sanciva che a Steven venisse diagnosticato il cancro per colpa della sua gemma, e man mano che il tempo passava, lui iniziava lentamente a perdere i capelli e ad allontanarsi dai suoi cari. Alla fine morì e finì per vivere come uno scheletro chiamato Sans, che sarebbe l'acronimo di Steven after not surviving. Prima o poi tutti abbiamo sentito questa teoria, ed è ovvio che sia palesemente falsa. Concrete Nel libro Steven Universe Art and Origins è presente una gemma che non ha mai visto la luce. Mi riferisco a Concrete, o cemento in italiano. Una gemma che non fu mai stata nemmeno nominata perché al tempo fece molto scalpore. Il suo design fu infatti criticato per aver incarnato un'estemica da Ministrell Show, una forma di spettacolo statunitense che consisteva in una miscela di sketch comici, varietà, danze e musica interpretati da attori bianchi con la faccia dipinta di nero. Insomma, un blackface vero e proprio. Concrete fu inoltre accostata all'archetipo Mammy, una domestica di discendenza africana, generalmente di buon cuore, spesso sovrappeso, comune all'inizio del XX secolo. Presentava attributi come timidezza e superagilità, ma non era forte come sembrava e addirittura non sapeva leggere. Gemme usate in Diamond Days Durante Diamond Days, uno speciale che mise in onda le ultime puntate della serie principale, possiamo vedere delle gemme che fungono letteralmente da decorazione, come le gemme gialle incastonate dentro ai muri sul pianeta natale. In Endo Vanira, Rebecca ha spiegato che il pianeta natale è stato realizzato attorno alle metafore di ordine e inflessibilità. Non poteva essere semplicemente una colonia imperiale simile a quelle terrestri, ma dovevano andare oltre a queste caratteristiche. Le gemme sono quindi inserite dentro delle mura perché, come in un puzzle, la società non può tollerare un pezzo che esce da tutto ciò. Se quelle gemme sono state quindi progettate per essere dentro a delle pareti, quello sarà il loro unico scopo della vita. La stessa cosa varrà per quelle progettate come ponti o come pettini. D'altronde le gemme venivano considerate solo come delle risorse, e non come degli esseri viventi. Ci vorrà Steven per far capire ai diamanti che quel loro tipo di società non poteva funzionare ed era sbagliato. Snipple Questo punto si riferisce alla teoria di Ronaldo mostrata nella puntata Le stranezze di Beach City. Secondo Ronaldo, infatti, esisterebbero delle persone serpente, in inglese snake people, o snipple in breve, che starebbero cercando di prendere il potere e conquistare il mondo. Steven prova anche a travestirsi da uno di loro, ma finisce catturato e torturato da Ronaldo. Esiste pure una teoria su Reddit che spiegherebbe le loro caratteristiche, ma siccome non hanno mai fatto un'apparizione, ne sono stati tantomeno più citati, possiamo arrivare alla conclusione che questa specie di rettiliani non esista. Lapis e Jasper rappresentano le relazioni abusive. Questo punto è abbastanza facile da capire. In un universo in cui le fusioni rappresentano spesso delle relazioni anche sentimentali, è abbastanza logico pensare che ne esistano di più tipi. La fusione fatta tra Lapis e Jasper è chiaramente una rappresentazione di una relazione abusiva, senza contare che anche nel mondo reale le polveri prodotte dalla Malachite sono tossiche e non devono mai essere inalate. Infine viene mostrato nella serie che Malachite non è una fusione creata consensualmente tra le due gemme, il che di certo non aiutò la sanità mentale già messa a dura prova di Lapis. Esistono dei videogiochi su Steven Universe, Attack the Light, Save the Light, ce ne sono vari, anche per Switch, per PlayStation 4 e all'interno di questi giochi abbiamo una cura completa da parte di Rebecca Sugar. Infatti nel corso di questi giochi appaiono anche diverse gemme che nella serie vengono solamente nominate o appaiono come disegni di nefrite, sono gemme ufficiali disegnate da Rebecca Sugar, pensate da Rebecca Sugar e allora stiamo parlando di piropo, demantoide e beh quella che per molti è diventata la preferita tant'è vero che è pieno di cosplay di... ti prego taglia questo pezzo non mi sta venendo il nome. Non mi viene! Ok ti concedo di tenere questo pezzo, non mi viene il nome! L'ho letto un attimo fa per sicurezza! È grosso l'aria la gemma ma in inglese non si chiama così quindi in italiano le hanno inventato un nome diverso per cercare di farlo stare nel labiale del cartone animale ma... no io non ce la faccio aspetta... vado a cercare vado a cercare su google... grossularia in inglese invio... dai... la gemma grossularia non l'uva! Da quando esiste pure l'uva grossularia? e sonide... e sonide... ce l'ho fatto, ho trovato il nome... e sonide... Comunque la trama di quei videogiochi tecnicamente sarebbe canon e ci rivela un sacco di cose interessanti tra cui per esempio l'idea che ci siano degli eserciti fatte di luce che potevano essere creati dai diamanti... fatte di sola luce! Leak di un teaser di dissapori tra gemme Durante la pausa tra gli speciali Steven Bomb 4, Steven's Birthday Week e Into Deep avvenuti entrambi nel 2016 Cartoon Network UK rilasciò accidentalmente filmati da L'Isola dei Supercocomeri e Dissapori tra gemme L'Isola dei Supercocomeri diventerà poi il singolo episodio più trapelato a non essere trapelato per intero con praticamente quasi tutti i minuti liccati in una miriade di modi La sigla di Steven Universe Future Allora, avete presente il finale della sigla di Future dove c'è Peridot che esclama Steven Universe Future Ecco, diciamo che da noi nessuno ha la più pallida idea di chi l'abbia detto anche perché se ci facciamo caso lo notiamo benissimo che quella non è la voce di Peridot Gilberta Crispino, la sua doppiatrice ha confermato di non sapere perché cavolo non le abbiano chiesto di doppiare anche quell'esclamazione visto che lei era disponibile né il perché della scelta di farlo fare a qualcun'altra Immagino che moriremo senza sapere la risposta Fluorite rappresenta una relazione poliamorosa Fluorite è la fusione non allineata di sei gemme sconosciute che fa il suo debutto in Scoloriti A causa della fusione tra più tipi di gemme Fluorite è stata considerata difettosa dal pianeta natale con il risultato che si dovette nascondere con gli scoloriti nel giardino di infanzia abbandonato del pianeta natale fino a quando non è fuggita da quest'ultimo con l'aiuto di Lars Sempre in Scoloriti viene suggerito da Fluorite che è una relazione poliamorosa cosa confermata da Rebecca Sugar durante un panel al Comic Con di San Diego nel 2017 Questo punto si riferisce ad un post fatto su Twitter da Cartoon Network nel 2017 per promuovere uno dei nuovi episodi in uscita più precisamente un alleato invadente della quarta stagione Da quanto visto nell'immagine sembrava proprio che nella nuova puntata sarebbe stata introdotta una nuova gemma anche se poi venne rivelato che Bloodstone era solo il nome che Ronaldo scelse di usare per camuffarsi da gemma Five Nights at Freddy's in Steven Universe In Steven Universe Beach City, fumetto che da noi è stato sponsorizzato da Sio, Stevens Bubble, molti altri e, chiaramente, Enrico è possibile vedere un riferimento al videogioco Five Nights at Freddy's, creato da Scott Coughton I tre personaggi principali, Freddy, Bonnie e Chica, sono infatti visibili come pupazzi nello sfondo di una vignetta La Russia non è presente Nella puntata alla base lunare, vediamo per poco tempo la mappa della Terra e la prima cosa che salta all'occhio è che al posto della Russia è presente una grande zona d'acqua Nel libro Steven Universe End of Vanira, Rebecca ha rivelato che non poteva mostrare Rubino e Zaffiro darsi un bacio perché il matrimonio gay non era legale e quindi rappresentare l'omosessualità non era una cosa ben vista Appena però ha notato che c'era un modo per farlo, ha inserito subito la rivelazione che Garnet è una fusione formata da Rubino e Zaffiro Questa cosa è successa perché, mentre Steven Universe andava in onda, i matrimoni gay stavano iniziando ad essere accettati Accettati e legalizzati? Sì, ma non in tutto il mondo La Russia ne è un esempio Si pensa quindi che per questo motivo sia stata fatta sparire dal mondo di Steven Universe Un po' come dire, tu non accetti e non riconosci questa cosa? Bene, per me allora non esisti Beta Leone Secondo quanto riporta la wiki, uno dei concept design considerati per Leone è una caricatura inquietante e silenziosa di un leone Come una vecchia immagine araldica medievale La sua faccia si è congelata in un largo sorriso tranne che per i suoi occhi che avrebbero seguito Steven mentre inquietava le Crystal Gems Potrebbe non essere carino e in realtà un po' sospettoso, ma Steven lo amava Gli Stati Uniti sono solo 39 In Steven Universe Future, Steven afferma di voler esplorare tutti e 39 gli Stati Uniti Il che suona un po' strano visto che gli Stati Uniti sono 50 Come ho detto prima, il matrimonio gay non è ancora legale in tutto il mondo E guarda caso, gli stati americani in cui gli omosessuali hanno pieni diritti sono solo 39 Mi sa che anche allora è stato riservato il trattamento della Russia Animatica originale di Fragments Fragments è il sedicesimo episodio di Steven Universe Future Oltre al fatto che questo episodio è stato basato su un'idea che Ian Jones Quarty il direttore supervisore di Steven Universe e il marito di Rebecca Sugar ha avuto per la serie originale, non sono riuscito a trovare altre informazioni Motel Kiston Kiston Motel, una vacanza turbolenta in italiano, è il dodicesimo episodio della seconda stagione In questa puntata Garnet si divide perché Rubino e Zaffiro la pensavano diversamente sul perdonare o no perla Durante il finale però tutto torna alla normalità e come riporta la wiki, l'episodio potrebbe alludere a Steven come una specie chiave ossia una specie che ha avuto un ruolo unico e cruciale nel mantenimento di una comunità o di un ecosistema Senza di essa l'ecosistema o la comunità sarebbero drammaticamente diversi o cesserebbero di esistere del tutto Scene tagliate Come per tutte le serie, anche in Steven Universe sono state scartate e tagliate numerose scene Un esempio che posso citarvi è che Perla Bianca all'inizio non doveva esistere perché era previsto da subito che Diamante Bianco non avesse una perla ma la crew voleva che Perla Rosa fosse esistita Semplicemente non doveva più esistere Ok, so cosa mi state per chiedere Come non doveva più esistere? Già, doveva essere infatti frantumata da Diamante Rosa in un momento d'ira non traumatizzata per la perdita di un occhio Nella timeline originale mostrata in Endovanira viene infatti raccontato che 1. Spinel non doveva esistere e 2. Perla Rosa doveva morire per mano di Diamante Rosa Un'altra ipotesi per la sua morte, sempre raccontata in Endovanira era che venisse frantumata dai diamanti per essere insorta per aver cercato di difendere Rosa ma pure quest'idea è stata scartata Altro contenuto tagliato era un episodio dedicato alle origini di Rodonite in cui viene citata Morganite Dovete sapere che Morganite, una gemma al quale design è stato rivelato solo in Endovanira possedeva le due metà di Rodonite prima di sostituirle dopo la loro fuga e che in questo episodio sarebbe stato rivelato che il Rubino e la Perla che formano Rodonite si erano innamorati e si erano fusi molte volte prima con Morganite che li ringiovaniva ogni volta Dopo essere stati scoperti per la diciottesima volta Perla e Rubino scapparono e furono esiliati da Morganite e si unirono agli scoloriti come Rodonite La storia è stata archiviata perché troppo complessa per un singolo episodio Inoltre, sempre in Endovanira scopriamo che l'episodio avrebbe anche rivelato il suo ruolo nella società del pianeta natale ossia designer per le portantine dei diamanti Fiori e gemme sul tavolo di Rosa Durante la puntata Il ruolo di Rosa vediamo inquadrato il tavolo nella stanza di Rosa per qualche momento Sempre su Reddit la gente ha ipotizzato che i diamanti erano in grado di creare ciottoli come niente ma la creazione di gemme richiedeva un certo tipo di esperienza Secondo l'utente Antichaser, Rosa stava praticando la creazione di gemme senzienti in modo da poter unirsi alle sue sorelle e iniziare a costruire colonie Ecco perché c'erano così tanti sassi Ah, piccolo fan fact Lo sapevate che il design dei ciottoli, o Pebbles è stato creato da niente meno che Pendleton Ward, creatore di Adventure Time? È stato chiamato da Rebecca anche perché si conoscevano già visto che quest'ultima aveva già lavorato in alcuni episodi di Adventure Time e aveva anche scritto molte canzoni, come ad esempio Everything Stays Umani e gemme sono le uniche specie intelligenti in tutto lo spazio Su Reddit l'utente WhyNot1989 ha fatto una domanda chiedendo se gli umani fossero l'unica specie intelligente che le gemme avessero incontrato e dalle risposte tutti concordavano sul fatto che, in un universo così vasto, sarebbe stato difficile non incontrarne altre Se esistevano poi gemme, come i Lapislazuli, create in grado di terraformare i pianeti muovendo l'acqua che senso aveva a dar loro questi poteri se non servivano ad abbattere le difese dei pianeti in cui venivano mandate? La sequenza di Fibonacci in diamante giallo Questo punto è un semplice dettaglio visibile sulle finestre della camera di diamante giallo in Homeward Bound Infatti la loro trama è una sezione aurea, la quale è strettamente collegata alla successione di Fibonacci Allora, allora, penso che se non fosse colpa mia, sottolineo colpa, non sarebbe finita qui questa cosa Ma le fusioni di Steven Universe rappresentano rapporti sessuali e non rappresentano rapporti sessuali Nel senso, la fusione rappresenta dei rapporti intimi All'interno dell'insieme rapporti intimi c'è anche rapporti sessuali, ok? Quindi, ho fatto un casino, perché tanti anni fa ho fatto un video, non so se l'abbiate mai visto in cui parlavo del fatto che è vero che all'interno del Steven Universe ci siano rapporti omosessuali? E sì che è vero, è ufficiale, anche da parte di Rebecca Sugar ha vinto dei premi per questo Steven Universe Non puoi dirmi che non ci sono, ma questi rapporti omosessuali sono rappresentati dalla fusione Ma non è che questo significhi che la fusione sia un rapporto sessuale per forza Esistono dei casi, come Malachite, dove si può intendere qualcosa di sessuale Perché Malachite è una rappresentazione di un rapporto tossico, addirittura per certi versi di uno stupro Ma è innegabile che Steg invece non rappresenti niente dal genere, ragazzi miei Quindi, calma, calma, cercate di guardare come si comportano i personaggi Se si baciano, si sbaciucchiano, si toccano, si palpano e poi si fondono pure è un conto Se invece i due personaggi sono in una situazione di pericolo e si mettono assieme È un semplice entrare in intimità per creare un'intesa per riuscire a vincere Tant'è vero che non possono crearla a comando ma hanno bisogno di entrare più nel dettaglio Tant'è vero che, per esempio, come dice Akomarina, sul pianeta natale c'è questo problema Dove due gemme, anche quando sono due gemme uguali, a forza di fondersi A un certo punto iniziano per forza innamorarsi l'una dell'altra E tutte le volte bisogna frantumarle per risolvere la cosa Non dice frantumare, però non mi ricordo che dice Principessa Koala Koala Princess è un personaggio che appare nella serie OKKO Let's Be Heroes Ed ha un corpo con la pelle scura, occhi indaco e lunghi capelli rosa chiaro In Steven Universe appare come easter egg nella puntata Alle stranezze di Beach City Citata dalla chat che insulta Ronaldo I bovini sono animali selvatici Questo punto si riferisce al fatto che, nella dimensione di Steven Universe Le mucche non sono mai state addomesticate, ma vengono cacciate per divertimento L'unica prova di tutto ciò è una foto che mostra una testa di mucca appesa ad un muro come trofeo ad un ristorante E che durante la serie non le vediamo poi così spesso Meat Beat Mania Nell'adattamento italiano di Steven Universe sono state applicate un po' di censure qua e là in vari momenti Ma una in particolare spicca tra le altre, in quanto è... particolare Mi sto riferendo a Meat Beat Mania, cabinato arcade presente nella sala giochi di Beach City Che viene giocato da Steven e Garnet È stato censurato in tutto il mondo, il nome infatti non viene detto E l'audio del videogioco non è presente Questa cosa è stata infatti trasmessa solo negli Stati Uniti Ma in tutto il mondo hanno cercato di censurarlo il prima possibile Addirittura nella pubblicità della collaborazione tra Steven Universe e Lego Hanno cercato di non far apparire il nome Perché? Perché Meat Beat Mania, da un lato, sì, significa mania per il battere la carne D'altronde muovere dei cosciotti di carne è l'obiettivo del gioco Ma battere la carne scritto così, Meat Beat, ha diciamo un significato strano Visto che in slang americano Meat significa anche... lo sapete dai, l'apparato riproduttivo dei ragazzi Beat invece non significa solo battere, ma anche nel senso sbattere insomma Beat the meat, quindi in inglese, è usato spesso quando si parla della masturbazione Immaginate poi aggiungere anche il mania Avete quindi afferrato perché è stato censurato Il salto temporale di Spinel Questo punto si basa su una leggera incomprensione, se non addirittura buco di trama, nel film di Steven Universe Ossia, come ha fatto Spinel nel giro di una ventina di minuti ad arrivare sulla Terra con un iniettore grande quanto una montagna? Sembra estremamente improbabile, anche con le sue motivazioni, portare a termine un'impresa in così poco tempo Da qui la teoria dell'inverosimile salto nel tempo Il lavoro del college di Rebecca Questo punto, come dice il nome, è riferito ai lavori che Rebecca Sugar ha fatto mentre era ancora al college Che includevano alcuni cortometraggi, ad esempio Johnny Noodleneck e Singles E molti disegni, tra cui uno dedicato ad un rapporto molto intimo tra WD e Eddie di Ed and Eddie Non sto scherzando, esiste davvero Esistono fumetti di Steven Universe Fumetti che in Italia sono stati distribuiti da Tunue E si dividono in vari tipi di fumetti In alcuni casi si tratta di storielle carine e inerenti alle Crystal Jam Completamente inventate dai siatori del singolo fumetto In alcuni casi, invece, usano degli script scartati da episodi che non sono stati mai messi nella serie Perché avrebbero generato altre domande o simili Come uno studente galattico che parla di quella volta in cui nella seconda stagione Steven avrebbe dovuto provare ad andare a scuola Per poi scoprire che, ah ma io non ce li ho i documenti, non ho un certificato di nascita Non sono un bambino vero e non sono come tutti gli altri Una bella storia sul bullismo in poche parole Un episodio extra di Steven Universe ma sotto forma di fumetto Oppure il fatto che sempre all'interno di questi fumetti c'è un episodio in cui entrano nella perla di perla Molto prima che arrivasse la quinta stagione di Steven Universe Quindi c'erano le indicazioni di Rebecca Sugar su che cosa ci fosse nella perla di perla Ma era immaginata in modo diverso, come una biblioteca piuttosto che un cellulare Geniale Comunque Questa serie di fumetti non è finita È stata interrotta a causa del Covid Ma sappiate che è previsto, e quindi potrebbe arrivare da un momento all'altro Un nuovo volume, anzi una serie di volumi Per raccontare le incredibili avventure di Lars tra le stelle Quindi sì, tutto quello che è successo a Lars nello spazio Il trauma di Steven Durante la puntata Growing Pains Assistiamo al fatto che Steven, sebbene in passato non sembrasse mostrarlo Abbia subito molto stress dagli eventi della serie principale E ne sia stato appunto traumatizzato È interessante vedere come in una sola puntata abbiano invertito il modo in cui Questi momenti sono stati percepiti da Steven Dal momento che durante la serie era comunque un ragazzo di 13-14 anni Statue umane nello zoo umano Questo punto si riferisce alla puntata allo zoo In cui all'entrata dello zoo sono presenti delle statue umanoidi con delle orecchie prominenti Tutto ciò risulta molto strano Soprattutto perché sappiamo che le gemme, a parte rari casi, non le hanno Rimane quindi il dubbio Se quelle statue sono umane, a chi sono dedicate? In caso contrario, quali sarebbero delle gemme con queste orecchie così prominenti? Steven Universe è una rinarrazione della caduta di Lucifero dal paradiso Questo punto si riferisce ad una possibile comparazione dello show alla caduta di Lucifero dal paradiso Diamante rosa sarebbe infatti Lucifero Un angelo che, cacciato da Dio, diamante bianco Per averlo sfidato, assume un'altra forma Conosciuta come Satana Nel caso di rosa sarebbe appunto un quarzo rosa Il problema è che le somiglianze in linea di Massima finiscono qui E anche se come teoria è un po' debole Rimane comunque un'interessante chiave di lettura Beta Lapis e Peridot Questo punto potrebbe riferirsi ai primi design di Lapis e Peridot Differenti da quelli attuali Lapis negli schizzi iniziali era disegnata in modo più inquietante rispetto alla sua versione definitiva Oltre a questo però non ci sono poi così tante altre differenze Peridot invece doveva essere più alta Aveva metà capelli lunghi e l'altra metà rasati Indossava un vestito con un rigonfiamento sulla spalla e la sua gemma era situata sul suo orecchio sinistro In alternativa a questo punto potrebbe anche riferirsi alla puntata di nome Beta La ventiduesima della terza stagione In cui le due sembrano essere più vicine Condividendo un certo interesse come guardare Camp Hining Hearts Fare arte moderna o Mip Morp come lo chiamano E fare musica per impressionare i loro visitatori Steven e Ametista La bozza originale di Lo Scarabeo Celeste Giant Woman o Lo Scarabeo Celeste È il dodicesimo episodio della prima stagione In cui fa il debutto opale La fusione tra Perla e Ametista Rebecca ha rivelato che nei suoi piani originali C'era un'idea che è stata riutilizzata nell'ultima puntata della serie principale Change Your Mind Infatti alla fine della puntata Steven sarebbe stato in grado di fondersi E l'avrebbe fatto con una delle Crystal Gems Il problema è che Quando avrebbe sciolto la fusione Si sarebbe diviso a sua volta in due parti Una umana e una completamente gemma Questa parte rosa Soprannominata già in precedenza Perfect Steven Sarebbe quindi rimasta divisa dalla sua controparte umana Alla fine Perfect Steven avrebbe ripreso la sua parte umana E si sarebbe fuso per ritornare alla sua forma normale Questo concept come ho detto prima Verrà poi riutilizzato in Change Your Mind Quando Diamante Bianco estrae fisicamente la gemma di Diamante Rosa Dall'ombelico di Steven E soprattutto verrà leggermente modificato da come era prima Visto che la definizione di Perfect non piaceva molto alla crew Che sosteneva che Steven era già perfetto nel modo in cui era Decisero quindi di trasformarlo sì in una versione più potente Ma priva di emozioni Che sarebbero rimaste invece alla sua parte umana Diamante Rosa è una diamante bianco fallita Se facciamo attenzione nel logo dei quattro diamanti Giallo e blu sono messi in lati opposti Sarebbe quindi logico pensare che lo stesso valga per rosa e bianco Anche la nave di rosa In confronto a quelle di giallo e blu È notevolmente più grande Era comunque quasi sicuro che lei fosse la sua controparte Anche dal loro modo di comportarsi Bianco era l'identità Il giudizio Il perfezionismo Il super ego I suoi poteri sono in grado di manipolare E rimuovere l'identità di una gemma Prendendone il controllo Mentre rosa era la pura forza di volontà L'impulso Il desiderio E in questo è considerata addirittura contagiante Possiamo considerarla come l'altra faccia Della medaglia di diamante bianco In quanto è in grado di far emergere La vera personalità di una gemma Al contrario di rimuoverla E addirittura anche i suoi desideri più profondi Anche se ufficialmente non è considerato Un vero potere da diamante È considerato un potere molto utile dal lato umano delle cose Certo potrebbe essere comunque un'esagerazione Se pensiamo che può anche essere molto manipolativa Per arrivare a quello che vuole Però è comunque in grado di attirare tutte le persone a sé Manifestando la propria intensità e sincerità I due diamanti erano così sempre in conflitto Con bianco che tramite la sua costante critica Reprimeva i desideri di rosa Che però non si faceva sottomettere facilmente Il suo scudo fu infatti un elemento fondamentale Anche quando si trovava sulla terra Quando tutte le gemme vennero corrotte tramite l'attacco dei diamanti La bandiera socialista dei Sadie Killers I manifesti che pubblicizzano il concerto di Sadie Killers and the Suspects Fuori dal magazzino all'inizio di Steven Universe il film Presentano un design simile a quello della bandiera Comunemente associata al socialismo libertario Una filosofia politica radicata nell'anti-autoritarismo Nella critica del capitalismo E dei rapporti di lavoro salariato all'interno dei posti di lavoro Temi che sono spesso esplorati nelle canzoni eseguite da Sadie Luke Weber Luke Weber era un artista di storyboard per Steven Universe Diventato popolare perché aveva creato dei disegni in cui si immaginava in una relazione con Perla Creò anche dei disegni con loro due che uscivano e ricevevano il permesso da Rebecca stessa Fu cacciato dalla crew perché Oltre a sembrare un po' inquietante come cosa Continuava a fare disegni di lui e Perla Anziché lavorare seriamente alla serie Senza contare che non fu più assunto altrove Perché aveva anche minacciato Dana Terace Animatrice che aveva lavorato per Gravity Falls E creatrice della serie di All House Con un coltello E aveva detto che l'avrebbe violentata Peridots Audition Peridots Audition si riferisce ad un'animazione per adulti di Steven Universe Molto famosa negli Stati Uniti Creata da Frico e doppiata da Ulay Tiger nel 2016 Ho messo solo questa di animazione perché tra tutte le altre questa è una di quelle che è più conosciuta E soprattutto perché non sono una vetrina di quei contenuti Ora, qui c'è da stare calmi perché non voglio che mi demonetizzino il video Quindi cercherò di essere il più vago possibile In questa animazione Peridot si presenta ad un annuncio che cercava persone con talento Perché si ritrova a corto di soldi E niente Semplicemente in cambio di soldi Peridot offre una prestazione sessuale Tra l'altro alla fine menziona che ritornerà per altri lavori Quindi immagino le sia piaciuta Dio mio passiamo subito alla prossima ma non voglio stare ancora qua per molto Il fantasma di Rose Quartz Esiste una teoria che sancisce che Rose Simile a Steven in Un lungo viaggio e scambio di persona Assieme agli altri esempi Al potere di proiettarsi astralmente in vari esseri viventi E più o meno risiedervi fino a quando non decide di andarsene Per tutta la serie la teoria afferma che prenderà il controllo di vari esseri viventi Tra cui il cane cocomero, la quarzo rosa timida in Le Amiche Rosa, Leone e così via Per essere essenzialmente lì per guidare o stare vicino Steven Esempi di strane coincidenze possono essere trovati ovunque quando si tiene conto di questa teoria Un grande esempio è in Un lungo viaggio Quando il cane cocomero guarda Steven costruire una barca per tornare a Beach City Quando Steven è in mezzo all'oceano dopo che la sua barca è andata in pezzi Leone, sapendo in qualche modo che Steven non era solo proiettato astralmente in un cocomero Ma conosceva anche la sua posizione approssimativa Lo salva e lo riporta a Beach City La teoria è immensamente complicata e un po' confusa Ma come tutte le teorie se sia vera o meno è oggetto di dibattito Inoltre sempre facendo un riferimento a questa teoria Il vero significato dietro alla canzone di Sadie G-G-Ghost sarebbe proprio all'uso di Amante Rosa Questa credo che sia la cosa più interessante al tempo stesso inquietante dell'Hasberg Ma è una mia cosa personale, sono io che la penso così Perché a me piace molto andare ad acquistare gli artbook di Steven Universe È come con qualsiasi altra opera che mi piace Ma il punto è che è uscito un artbook in cui raccontano la storia di come hanno realizzato la parte finale di Steven Universe E tra le cose ci sono delle rivelazioni Per esempio essendo finita la serie Hanno potuto rivelare finalmente la timeline della serie che loro hanno utilizzato per tutto il tempo Tutta una serie di appunti scritti a mano per capire in quale ordine, in quale anno è successo cosa e a chi E qui sopra ci sono un sacco di cose interessanti Tra cui per esempio la storia che avevano previsto inizialmente per la rosa Ovvero che venisse frantumata da Diamante Rosa Ma c'è una cosa inquietante Man mano che scorre, scorre, scorre Ci si avvicina sempre di più alla creazione dei diamanti Anzi c'è addirittura l'anno di creazione dei diamanti Ovvero 20.000 anni fa E che c'è scritto sulla creazione dei diamanti? È stato oscurato È stato oscurato E graficamente non è molto piacevole Quindi pare che sia stato oscurato pure male Una cosa del genere di solito la si fa all'ultimo momento Quando magari hai mandato già in stampa i libri e cambi idea su qualcosa O ti accorgi che hai messo qualcosa che non dovevi mettere Il punto è che questo nero tormenta gli incubi dei fan di Steven Universe da anni ormai Che cosa ci ha voluto tenere nascosto ancora Rebecca Sugar? Cioè questo è uscito dopo Future Cosa ci sta tenendo nascosta con questa cosa? Perché ha cancellato l'origine dei diamanti? E perché non ha cancellato invece l'anno in cui è successo? The Story of Menstruation The Story of Menstruation è un corto di animazione americano di 10 minuti del 1946 Prodotto dalla Walt Disney Productions È stato commissionato dalla Cotex Ed è stato mostrato a circa 105 milioni di studenti americani Nelle classi di educazione sanitaria Il film utilizza diagrammi animati per spiegare nel dettaglio il ciclo mestruale Ora, prima che mi chiediate cosa cavolo centri tutto ciò Dovete sapere che come rivelatore Rebecca stessa Il personaggio di Diamante Bianco Prende fortemente ispirazione dal narratore di questo corto Una gentile voce femminile Una donna più grande che ti dice cosa tutto ciò significherà per te C'è questa parte in cui c'è una ragazza alla sua toeletta Lei si sta pettinando i capelli e si sta arrabbiando E questa voce femminile le dice di non diventare emotiva Perché le persone dovranno interagire con lei È sgradevole e non attraente La ragazza è lì che sta piangendo E quando la donna le sta dicendo di diventare meno emotiva Il suo riflesso nello specchio si rimette in ordine e le rimette a posto i capelli È così bizzarro Il corto continuava ad andare avanti Continua a fare le cose che fai tutti i giorni Come ballare con i ragazzi o pulire casa Volevo che Diamante Bianco fosse quella voce Che ti dice che non puoi esprimere te stesso o te stessa Sarebbe stato sgradevole per te Caricare sulle altre persone qualsiasi cosa non vada bene Page Paz Questo punto mostra chiaramente Quanto un determinato fandom possa essere estremamente tossico Nel 2015 un utente Tumblr di nome Page Paz pubblicò un disegno dedicato a Steven Universe Ma quello che non sapeva è che avrebbe causato un gigantesco polverone pronta ad abbattersi su di lei Una parte della community iniziò infatti a bullizzarla e a prendersi gioco di lei Perché, per loro, aveva disegnato Rose Quartz volutamente più magra rispetto al suo design ufficiale Tutto questo portò l'artista a tentare il suicidio Il che suscitò molto scalpore Era davvero giustificato questo atteggiamento nei suoi confronti? Ovviamente no E anche per oggi abbiamo finito Ringrazio infinitamente Enrico per aver prestato la sua voce, la sua faccia E soprattutto le informazioni che mi ha fornito E vi ricordo, come ho detto all'inizio, che tutti i link per il suo canale li trovate ovunque Nella scheda in alta destra, in descrizione e anche nei commenti È stato un piacere essere qui con te Grazie mille per avermi ospitato E hai avuto un'ottima idea Hai avuto davvero un'ottima idea Spero che qualcuno di voi riesca a convincere qualcun altro a guardare Steven Universe Magari non con questo video, che ci sono troppi spoiler Però, però, però Sono curioso anch'io di sapere se qualcuno di voi conoscesse già qualcuna di queste cose O se per caso ne conosciate altre che noi non abbiamo nominato Detto questo, fatemi sapere se vorreste vedere altri video dedicati agli iceberg E vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto E di condividere questo video il più possibile Visto che mi ha richiesto tantissimo tempo per la lavorazione Se poi vorreste farmi contento potete benissimo anche attivare la campanella qua in basso Così non vi perderete nemmeno tutti i video che usciranno in futuro Detto questo, beh, non ho nient'altro da dirvi Se non, noi ci rivediamo alla prossima Bella!